Risa Ramos Revisoree Risa Ramos Revisoree Risa Ramos Revisoree Risa Ramos Revisoree Ciao, è arrivata una giovane finalmente ragazzi, tranquilli. Allora, io penso che tutti nella vita abbiamo la possibilità di vivere, di provare delle esperienze che in qualche modo ci trasformano, in qualche modo ci cambiano. Ecco, nella mia vita c'è stata un'esperienza in particolare che forse ha segnato più delle altre al mio percorso. È stata una meningite batterica che ho avuto nel 2011 che mi ha cambiato a livello esteriore, credo. Evidentemente sono trasformata, mi trovo diversa, però non credo di essere cambiata poi così tanto in fondo, nel profondo. Sicuramente è stato un evento che ha stravolto la mia vita e delle persone che mi stavano attorno. È stato come essere catapultati in un grande caos per un bel po', per circa un anno direi. Sicuramente non è stato facile, come potrete immaginare. Mi sono chiesta tantissime volte perché fosse capitato proprio a me, di tutte le persone brutte che ci sono al mondo proprio a me. O mi chiedevo mentre ero in ospedale cosa avrei fatto poi della mia vita, cosa avrei potuto fare. Beh, una risposta a queste domande non c'era e non c'è una spiegazione. Però forse proprio in questi momenti difficili uno deve fare un po' una scelta. E c'è la possibilità di scegliere di essere un po' sopraffatti dalle difficoltà da un evento così duro. E penso che sia anche lecito e giustificabile fare questa scelta. Però c'è anche un'altra scelta, quella per cui forse ci vuole un po' più di coraggio, ma che regala tante occasioni. Che è quella di rendersi un po' conto, prendere atto della realtà, di guardarsi un attimo allo specchio e guardare quello che è rimasto. Non quello che non c'è, non quello che avrebbe potuto esserci. Ma di prendere un po' in mano le redini della situazione e cercare di andare avanti. Anche in modo molto positivo. Questo evento così traumatico, si pensa sempre che debba cambiare tutto di te. Un evento così difficile. Chi di voi nella vita ha subito un trauma, pensa che la sua vita sia stravolta a quel momento. Però io credo che nel mio caso mi abbia fatto veramente capire quali erano, quali siano le mie abilità. E non ridete, lo so che sono diventata una persona disabile, però ho scoperto delle abilità nuove. E proprio per farvi capire meglio quello che intendo, praticamente un esempio. L'altro giorno ho incontrato un mio amico, un ragazzo in stazione a Roma. Io non lo vedevo da otto anni. L'ho conosciuto in vacanza studio l'anno prima di ammalarmi, nel 2010. E sapete quelle persone che magari veramente incontrate una volta nella vita, ma ti rimangono un po' nella memoria, ti hanno lasciato quel calore. E quando l'ho incontrato ovviamente ero felicissima. E mi ha sorpreso, mi ha preso un po' in contropiede perché mi ha detto, sai Veronica io ti ho seguito un po' dai soci, ho seguito la tua storia. E io non mi aspettavo niente di meno da te, da quella ragazza che ho conosciuto otto anni fa, perché eri già curiosa, già piena di idee e così. E ovviamente questa cosa mi ha fatto, insomma, super onore e ero felicissima. Però è come proprio se mi avesse dimostrato la forza formidabile che ha la capacità di essere integri, di rimanere se stessi nonostante tutto. È come se mi avesse fatto un po' vedere due foto di me, una prima e una dopo. E in entrambe mi riconosco, in entrambe sono io, come qua dietro. Sono la Veronica che sogna a grandi occasioni, solo che sono in un corpo un pochettino diverso. Sono cresciuta in qualche modo. Sono cresciuta e ho la possibilità di raccontarmi spesso a molte persone. Quindi, secondo me, questa malattia è stata una sorta di acceleratore, una scintilla, una motivazione a dare tutta me stessa in tutte le occasioni. Ed è fantastico, perché è come se ognuno di noi avesse il proprio percorso già un po' scritto. E dovesse solo trovare, appunto, un'idea, una parola, un'emozione, una scintilla, chiamatela come volete, che spinga veramente a metterci tutta la passione che può esserci. Per me c'è stato un momento particolare, il momento in cui mio papà e altri 28 runner, suoi amici, hanno deciso, una volta uscita dall'ospedale, di portarmi a New York. Ma facciamo un passo indietro. Quando ero in ospedale, io sono stata cinque mesi in ospedale, no? E devi imparare ad affrontare certe cose che a 15 anni magari non sei pronta, non sei capace di affrontare. E io non ero assolutamente capace a chiedere. Non sapevo chiedere neanche a mia amma se mi preparava il pranzo, non sapevo chiedere niente. Infatti ero una di quelle bambine che non aveva bisogno di far vedere il diario ai propri genitori, una che si arrangiava, una abbastanza indipendente. E in ospedale ti trovi a essere dipendente da tutti, a dover chiedere tutto, e a doverti fidare delle persone che ti dicono «Ah, guarda, ti devo tagliare un pezzetto, però ti salvi». Tu dici «Vabbè, fidiamoci». In realtà queste abilità mi sono servite tantissimo. Quando sono uscita dall'ospedale ho intrapeso la mia carriera sportiva e questa abilità del chiedere mi è tornata utile. Mi è tornata utile, ad esempio, quando devo andare nelle aziende a chiedere di aiutarmi nel mio percorso sportivo, devo fare un po' la sfacciata e devo chiedere, quindi è importante. Ma sapete un po' che in università tutti sono un po' tirchi con gli appunti. Ecco, imparare a chiedere è importante, imparare a chiedere in modo giusto alle persone giuste è stata veramente un'abilità che mi torna utile sempre. E appunto devi fidarti dei medici che ti dicono che ti salveranno in un certo modo e devi fidarti anche di tuo apà. Quando torni a casa dall'ospedale ti dice che lo sport ti farà benissimo. Tu sinceramente lo sport non c'hai mezza voglia perché vorresti stare sul divano a riprenderti da tutto il caos e da tutto quello che ti è successo. E appunto mio apà con questi runner decidono di portarmi alla maratona di New York. Io ero ancora in carrozzina quando sono uscita appunto in quel periodo dall'ospedale e il giorno prima della maratona c'è una cinque chilometri di avvicinamento alla maratona e decidono tutti insieme di correre con me per me. Facciamo questa cinque chilometri mentre loro mi spingono in carrozzina e poi tagliamo il traguardo tutti insieme camminando. Ed erano i miei primi passi da quando sono tornata a casa. Ed è stata un'emozione incredibile veramente. Infatti ho un po' la pelle d'oca. Grazie. Grazie. Ed è proprio come se mi avessero voluto mettere su un trampolino gigante e mi avessero detto Veronica, guarda, questo è il mare di emozioni che ti può regalare lo sport. Lo sai benissimo perché comunque eri una sportiva, non a livello agonistico di adesso. Quindi è tua la scelta. Io quando sono tornata a casa ho deciso che dovevo fare qualcosa, dovevo mettermi in gioco in prima persona. Io abito a Palazzolo sull'Olio, una città di confine Terroberesce Bergamo e c'è un fiume bellissimo che la attraversa. Quindi avevo visto già mio fratello andare in canoa così e ho deciso di scendere al fiume dove c'è questo club di canoa bellissimo. Sono scesa al fiume e l'approccio è stato fantastico perché il presidente allenatore, io non sapevo come mi avrebbe trattato, era la mia prima esperienza da atleta paralimpica o come si possa dire. Io sono arrivata in carrozzina con tutte le difficoltà del genere e lui mi ha messo lì la canoa e l'acqua e mi ha detto tieni vai, e io addio aiuto, vado dove? Infatti tutti i canoisti che c'erano lì per allenarsi mi guardavano e mi diceva dove vuole andare con queste manine che non riesce neanche a tenere la pagaia. Però piano piano io mi sono messa lì e da qualche parte sono andata. È stato veramente un approccio che penso che mi abbia fatto scattare qualcosa. Lui mi ha detto guarda noi ci alleniamo il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Se vuoi venire qua siamo qua a allenarci. E non mi sono sentita diversa. Questo è stato molto importante perché era l'inizio del mio percorso. Questo trattamento è stato veramente importante. parallelamente ho iniziato a fare snowboard. Ho avuto la fortuna di farlo molto meglio di prima nonostante le difficoltà fisiche. E ho avuto anche la fortuna di riuscire ad andare subito a una Paralimpiade. La Paralimpiade è un evento spettacolare. Nello snowboard sono stata molto fortunata perché avevo iniziato da poco. Però lo snowboard avrebbe fatto il suo debutto come disciplina Paralimpica Soci 2014. E c'erano un po' di posti, c'erano poche ragazze e comunque ci sono andata. Ed è stata un'esperienza fantastica. E poi quando sono tornata mi sono messa di nuovo in canoa. Ho iniziato a fare i campionati italiani e li ho vinti. E ho vinto gli europei, ho vinto la Coppa del Mondo. È stato un susseguirsi di cose bellissime. Grazie. Però anche la cosa bellissima sono tutti gli incontri che ho fatto sul percorso. Tipo a Rio 2016 quando sono andata per la canoa alle mie seconde Paralimpiadi. Ho avuto la possibilità di conoscere la squadra di paratriatron. Ed ora infatti faccio triatron. Ho avuto la possibilità di conoscere storie da tutto il mondo. persone che mi hanno veramente arricchito. Insomma, tutte queste emozioni e occasioni mi hanno reso una persona, credo, un po' migliore. E forse non l'avrei avuta senza la meningite. Ovviamente se fossi davanti a un bivio non potrei scegliere di nuovo la meningite. Però questo percorso mi ha regalato tanto, quindi sarebbe anche una scelta difficile. Cioè, provate a immaginarvi di, a 18 anni, siete appena stati convocati alle Paralimpiadi, di entrare in uno stadio in Russia, a Sochi 2014, alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, con 40.000 persone che vi avvolgono. Voi con la divisa della nazionale. È veramente un'emozione indescrivibile. Se fosse facile dirlo e descriverlo non sarebbe così importante andarci. Immaginate l'emozione di portare la divisa della nazionale a rappresentare qualcosa. Siete una formica dentro questo stadio, ma in realtà rappresentate qualcosa di importante. È un onore incredibile, veramente. Tutto questo è un valore aggiunto alla mia esperienza di vita. Per fortuna non sono le uniche emozioni che mi ha dato, e gli unici fattori di crescita che mi ha dato lo sport in questo percorso. Perché lo sport è fatto un po' dalla fatica di tutti i giorni, no? Va bene la gara, va bene la vittoria, la sconfitta. Però un evento non può definirti. Perché in qualche modo tu sei un atleta, non per la gara che vinci, ma sei un atleta perché tutti i giorni ci metti impegno, costanza, come quando studiate tutti i giorni, no? Per gli esami che avete a scuola, per le verifiche. E veramente questo sport, come la canoa, mi ha attemprata e mi ha reso l'atleta della persona che sono. Faccio un esempio del fatto che un evento veramente non può definirti. Quest'anno sono andata al mondiale in Australia, di triathlon, la disciplina che ormai sto facendo da due anni, da quando sono tornata dalle Paralimpiadi di Rio, perché non mi piace sempre fare le stesse cose, sono una persona un po' curiosa. E sono andata al mondiale, mi sono preparata molto per questo mondiale, tutto l'anno con questo obiettivo, mi sono allenata tantissimo, sempre con in mente questa gara, la gara più importante dell'anno. in Australia, poi sarebbe stata comunque un'esperienza importante per me, non ero mai stata in Australia. Il fatto sta che arrivo in Australia e mi ammalo. L'influenza più brutta della mia vita. Avevo fatto un periodo in altura, avevo fatto proprio una preparazione intensa, le aspettative erano alte sia da parte mia che da parte delle persone che mi seguono nel mio percorso sportivo. Però per qualche motivo c'è la sfiga di non riuscire a star bene quando vuoi star bene, no? È come quando, immagino tutti di voi, preparate qualcosa per cui insomma vi siete impegnati tanto, a un certo punto c'è qualcosa che non va e tutta la fatica sembra un po' sprecata. Però in realtà no, bisogna vedere proprio il percorso. Perché io per arrivare a questo mondiale mi sono allenata tantissimo e quel valore lì di quell'allenamento quotidiano mi resta. Ok, la gara non è andata come volevo, però ho fatto un'esperienza comunque bellissima, ho fatto una preparazione intensa che mi servirà l'anno prossimo. È meglio perché magari le mie rivali adesso pensano che io sono scarsa perché al mondiale non sono andata bene e l'anno prossimo arrivo e tac, vinco magari. Grazie. Ecco, in questo percorso capite che le occasioni e le opportunità sono state tante, le emozioni tantissime. però ultimamente c'è qualcosa che sento necessario fare e dire. Sapete, per me non è mai stato un problema il mio corpo. Perché io faccio questo lavoro quotidiano sempre con il mio corpo. E quando vedi il tuo corpo che fa cose straordinarie tutti i giorni, si migliora, cresce, supera i propri limiti tutti i giorni, come fai a non adorarlo. Quindi le mie cicatrici, le mie forme strane, che magari possono non piacere o fare un po' impressione all'inizio, non sono mai stata un problema per me. E ultimamente sto facendo dei progetti per sensibilizzare e condividere questa cosa con molti ragazzi e ragazze che si sentono piene di difetti. E scommetto che tutti voi qua vi sentite con qualche difetto. È una cosa così stupida. Mi hanno chiamata per fare delle foto in costume. Io ho detto, oddio, io ho delle foto in costume, siete sicuri? Però mi hanno detto appunto che il fine di questo progetto era dimostrare che la diversità è bella, che la diversità è bellezza. E quindi ci tenevo molto, perché è una cosa a cui tengo, no? Passare a voi ragazzi, anche agli adulti in realtà ne hanno bisogno. Quindi ho detto di sì. Però non sapevo quale sarebbe stato il feedback, no? Come avrebbero reagito le persone. Ed è stato meraviglioso. Perché quando sono uscite queste foto, tantissimi ragazzi e ragazzi hanno condiviso la propria storia, le proprie insicurezze con me. E non mi aspettavo io di avere questa possibilità nella vita, no? Questa possibilità di lasciare un segno positivo nella vita degli altri, di motivare qualcuno a piacersi, ad accettarsi per quello che si è. È stato veramente un altro regalo grandissimo che mi ha dato questa strada. Quindi dopo tutti questi regali, io ho deciso di ridare qualcosa, no? Alle persone che mi stanno dando tanto. Nel 2016, quando sono tornata da Rio, ho deciso che il mio club magico, il mio club di canoa, aveva bisogno di un contributo da me, oltre che a quello fisico, di essere lì e di motivare tutti i ragazzi. E quindi ho deciso di fare una raccolta fondi per renderlo accessibile, quindi privo di barriere architettoniche e soprattutto un centro molto più funzionale di quello che è ora. Ed è bellissimo vederlo crescere. Ormai i lavori sono quasi finiti, ed è come se alla fine mi fossi fatta un regalo io, perché è veramente bello vedere i ragazzi e le ragazze che iniziano il loro percorso lì, che lo continuano, e che sono facilitati da questa struttura che dà l'accesso a tutti. Poi cerco di motivare un pochettino le persone per un pizzico di entusiasmo in più nella vita, che spesso manca ultimamente. Quindi racconto la mia storia quando posso a molte persone. Quindi oggi sono qua per chiedervi un altro grande regalo. Vi prego di mettere tutti voi stessi sempre in ogni cosa che fate. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.